Siamo a Pomaretto con il comitato che si è formato un po' di mesi fa contro la centrale di bioglassificazione che vogliono costruire qua. Che comitato è, come funziona e cosa state facendo? Abbiamo pensato di riunire un pochino di persone per dire no alla centrale a biomasse. Il comitato come nome a no centrale a biomasse a Pomaretto, nome che ci è stato anche contestato perché ci hanno detto che questa è a piroglassificazione. Ci incontriamo ogni 15 giorni, più o meno, il venerdì per organizzare delle iniziative. Adesso volevamo fare un volantinaggio per informare la popolazione sul perché noi diciamo no alla costruzione della centrale perché ci sono ancora molti scetticismi, gente che non sa o che non sapeva che venisse costruita o che comunque non era interessato alla cosa. Tutto dicono è lontano da casa nostra, non ci tocca. Quindi vogliamo sensibilizzare ancora un po' la popolazione e pensavamo sia attraverso il volantinaggio sia attraverso un'ulteriore assemblea pubblica per confrontarci e spiegare appunto le nostre motivazioni, la salute, l'inutilità di un'opera del genere. Si cercherà di fare una strada sul lato del fiume con un muro di contenimento. Penso che del valore complessivo mi hanno detto di un milione e due. I camion entreranno appunto in quella zona là e usciranno da questa strada che vediamo in mezzo alle case. Pirogassificazione è una parola abbastanza complicata. Che cosa vuol dire una centrale a pirogassificazione? Sostanzialmente in questo tipo di centrali la biomassa, in questo caso il cippato di legno, viene sottoposta a un processo di tipo termochimico, cioè viene sostanzialmente gassificata, in questo caso pirogassificata in condizioni di carenza di ossigeno e dal legno in ingresso si ricava un gas, detto gas di sintesi o sin gas, che è composto da diversi tipi di sostanze, sostanzialmente metano, monossido di carbonio, azoto, idrogeno e biossido di carbonio. Questa miscela di gas ha un modesto potere calorifico e dopo un complicato processo di depurazione tramite una serie di filtri di diverso tipo può essere impiegato, come avviene nel caso del pirogassificatore qui in progetto, per alimentare dei motori a combustione interna, dei grossi motori a scoppio sostanzialmente. Questi grossi motori a scoppio sono collegati ad alternatori per la produzione di corrente elettrica, parte del calore incidentalmente prodotto nel processo di funzionamento del motore può essere recuperato e viene recuperato per eventualmente essere ceduto ad una rete di teleriscaldamento. Chiaramente essendo un impianto per la produzione di corrente elettrica è attivo 24 ore su 24, dato che quello è il suo scopo principale. Per chiudere un po' questo ragionamento, la cosa che io chiedo a voi è cosa chiedete al sindaco di Pomaretto riguardo questa centrale? Io mi lamento del fatto che abitando già vicino a Tre Camini, attivi a buona ragione per solo nel periodo che serve per riscaldare, non sia necessario avere alla mia sinistra un impianto con un motore specifico, come dire a scoppio, acceso 24 ore al giorno tutto l'anno e respirare fumi che non so di quale entità possano essere diagnosi oppure benefici per la mia salute. Io ho investito i miei risparmi in un'abitazione o solo quella, è inevitabile per me respirare e invece per il sindaco può essere evitabile fare un impianto, l'ennesimo impianto vicino a casa mia. Onestamente non lo trovo corretto, lui dovrebbe tutelare tutto e tutti. Chiediamo di rinunciare al progetto di costruire questa centrale a biomassa perché per noi sembra inutile e dannosa, specialmente a noi che abitiamo a ridosso della centrale. Questo chiediamo.